Io credo che bisognerà ricostituire un circuito di fiducia tra i cittadini e i politici. Questo terrore del rischio, ma che discorso è? Ma fa pugni con quello che è lo spirito elementare dello stesso capitalismo. Il continuo passaggio da un oggetto di desiderio all'altro. La questione è come entrare in contatto con i valori della mitica gente, come è possibile orientare la parte migliore del sistema di valori della mitica gente. Beh, esiste? Vi do questa notizia. Solo un modo. E il modo è dire le cose bene. Ma con il manuale Cencelli delle istituzioni, per cui altro che chiudere le province. Questa epoca delle grandi intese che mette insieme partiti che si sono contrapposti nelle elezioni, ha avuto come conseguenza che si fa solo ciò su cui si è d'accordo, cioè quasi nulla. Se Pippani perde l'equilibrio e cade sul palco. Non mi risulta che sia in corso un processo di federazione europea e non mi risulta nemmeno che esista un soggetto che si chiama Europa. Si mette di computer a scuola, si riduce la letteratura, no? E così nascono delle persone psicologicamente inadeguate perché non sanno quello che sentono. All'interno di questo scenario è viva l'uomo. Ma quale uomo che non sa neanche più conoscere quel che prova? Adesso fermiamoci, no? Ma rabbio. Io in campagna elettorale non ho visto una persona venire a bussare alla mia porta o suonare alla mia porta o fermarmi per strada. Questa non è politica. Allora a questo punto è televisione pura, questo è spettacolo. La scelta che ha fatto il segretario di Stato, ancorché italiano come era ragionevole che fosse, è una scelta che punta più a dimensioni di politica internazionale che non a quelle italiane. I cambiamenti nel reddito, nei livelli di reddito, non parliamo soltanto dei livelli di reddito, cioè di come questo reddito si è aumentato o diminuito nel corso del tempo. E noi vediamo che i confini nazionali vogliono dire ancora tantissimo. Grazie a tutti.